Il sodalizio manga a videogiochi si arricchisce questo 20 settembre con One Piece Pirate Warriors, un action game della serie Musou che tenta di avvicinarsi alle veleità di Ultimate Ninja Storm, grazie ad una struttura più varia del solito e qualche innesto da RPG. La trama di Pirate Warriors segue il manga a partire dal principio sino agli eventi post-Marineford nella saga del Nuovo Mondo. La vicenda darà modo anche a chi non conosce il manga di entrare a far parte nel mondo di One Piece, presentando uno ad uno quasi tutti i personaggi e mettendo il videoplayer di fronte agli avversari più importanti. Diversamente dal manga però, il videogioco non approfondisce in maniera completa la caratterizzazione dei personaggi e i rapporti interpersonali tra gli stessi, mostrando dunque un sentimentalismo a volte spicciolo e apparentemente infantile. Viene in parte meno quella componente emozionale che, affiancata all'ilarità dei personaggi, ha reso grande la saga in tutto il mondo. Si tratta di un punto a sfavore in particolare per chi non avesse familiarità con la serie originale, delineando il profilo di una produzione dedicata soprattutto ai fan dell'opera cartacea. Riguardo al gameplay, One Piece Pirate Warriors si discosta solo in parte dai classici Dynasty Warriors. Alla base della struttura ludica c'è la solita suddivisione in macro aree, caratterizzate da ambientazioni in cui si alternano stretti corridoi ed enormi stanzoni. Il nostro compito consiste nell'ottenere il controllo di queste stanze, eliminando prima mandri d'avversari e poi il loro capitano. Si inseriscono qua e là meccaniche leggermente diversificate. Conquistare zone contrassegnate come basi consente ai nostri di ottenere rinforzi. Bersagliare i capitani non appena palesatisi ne fa disperdere i sottoposti. Un mix di qualità strategiche che si rifanno alle origini della saga Tecmo Kohei, mescolandoci ad un alto tasso d'azione per funzionare in maniera abbastanza convincente anche oggi. A porre un freno all'inequivocabile linearità della produzione saranno invece alcune sezioni platformiche molto dinamiche. Attraverso veloci quick time event, ad esempio, dovremo condurre Rufy attraverso un fitto colonnato sospeso sull'acqua o portare al sicuro una Nami gravemente ammalata, risolvendo qualche enigma al contempo. Tutte fasi ben strutturati e capaci di spezzare il ritmo dell'azione al momento giusto. A fronte delle circa 6-7 ore necessarie al completamento della campagna, tuttavia, queste distrazioni non ci sono sembrate sufficienti. Sin dai primi capitoli, scazzottata dopo scazzottata, l'ombra della ripetitività si allunga pericolosamente. L'alternarsi dei protagonisti ed il rimpinguarsi dei moveset non basta smortare completamente il focolare di insofferenza alimentato dalle migliaia di nemici continuamente in arrivo. Bisogna ammettere però che la necessità di approcciare alcune tipologie d'avversario, sfruttando l'ampia gamma di poteri ripresi dal manga, si rivela presto un'arma vincente per coinvolgere soprattutto i fan. Ed è proprio la caratterizzazione, uno degli aspetti meglio riusciti, della collaborazione tra Tecmo Koei ed Omega Force. Protagonisti ed antagonisti mostrano movenza e comportamenti ripresi fedelmente dal manga, offrendo un plus valore non da poco. Peccato che anche in questo caso il team vada ad inciampare su se stesso, non riuscendo a caratterizzare al meglio le boss fight più spettacolari. Un vero peccato considerando che nemmeno la componente RPG del titolo brilla particolarmente. Si tratta in sostanza di un avanzamento automatico, amalgamato all'interessante possibilità di equipaggiare una serie di effetti extra grazie a speciali monete. Potenziare abilità, parametri e addirittura combo non sarà l'unico scopo di tale sezione. Combinando le effigi di protagonisti con primari ed avversari, saremo infatti in grado di sbloccare coreografiche mosse speciali, oppure ottenere benefici importanti quando affiancati ad un compagno in battaglia. Alti e bassi anche in questo caso, per una struttura complessivamente intrisa di chiari scuri. Una delle componenti più affascinanti di Pirate Warriors è quella tecnica, che si rifà a produzioni come senseia. I personaggi mostrano un cell shading piuttosto avanzato, che pur non raggiungendo le vette di Ultimate Ninja Storm, convince. Le tecniche da manga game già viste in Asura's Rat si ripresentano in maniera meno marcata, ma non meno coinvolgente, veicolando sfumature espressive e dettagli inaspettati per un semplice tie-in. Al mantenimento di una genuina atmosfera alla One Piece ci pensano poi gli intermezzi narrativi, suddivisi in cutscene animate e storyboard dinamici, che esprimono tutta la carica ironica dei protagonisti. Ma le notte positive non possono non aggiungersi quelle negative. Sorvolando la realizzazione con lo stampino degli avversari minori, l'occhio cade inevitabilmente sulla costruzione delle ambientazioni. Mentre il level design appare piatto solo per una parte dell'avventura, la texturizzazione lo è dall'inizio alla fine. Non serve esplorare gli angoli più reconditi per accorgersi di un certo riciclo e di una realizzazione piuttosto sottotono rispetto ai diversi congeneri. A mancare, oltre all'appil grafico in sé, è la caratterizzazione rispetto all'opera di Oda, che da questo punto di vista pare lontana mille miglia. Meno altalenante è il comparto sonoro, caratterizzato dal doppiaggio giapponese e da una soundtrack ideata ad hoc. Pur distanziandosi nettamente da titoli quali Fist of the North Star, One Piece Pirate Warriors non convince pienamente. Alla struttura di gioco, per quanto variata qua e là da un pizzico di iniziativa, non si può non imputare un'eccessiva ripetitività. Un tedio, mediato solamente dalla buona caratterizzazione di protagonisti con primari d'antagonisti, vero e proprio surplus della produzione. A fronte però di una vicenda sì completa cronologicamente, ma priva di alcuni importanti intrecci interpersonali, il titolo si proietta più verso un'audience appassionata che universale. Un pubblico che non si lascerà sicuramente sfuggire la produzione Tecmo Koei, passando tranquillamente sopra a difetti e difettucci che la caratterizzano. Per tutti gli altri un acquisto da ponderare.